Movimento Forense, l'avvocato Vito Cosentino è il presidente del nuovo direttivo della sezione Aretusea. È stato eletto il 17 aprile il nuovo direttivo della sezione di Siracusa del Movimento Forense, associazione di avvocati presenti sull'intero territorio nazionale. Sarà l'avvocato Vito Cosentino a guidare come presidente la struttura territoriale unitamente al direttivo composto dagli avvocati Mimma Coco, vicepresidente Giorgio Nicastro, segretario Daniela Pulino, tesoriere, formazione e iniziativa a sostegno di un'avvocatura che sia autonoma, libera e indipendente. Queste sono le principali assi direttrici dell'associazione che conta oltre 56 di più di 2.000 iscritti in Italia e che è divenuta oggi tra le realtà associative forensi maggiormente presenti e rappresentative nel programma nazionale. Sono lusingato dall'incarico che mi è stato affidato unitamente agli altri componenti del direttivo nella guida della sezione, afferma il presidente Cosentino. Nella ringraziare il presidente uscente, l'avvocato Vito Brunetto e il precedente direttivo per il lavoro svolto, spieghiamo una fattiva collaborazione con le istituzioni forense e con le realtà associative già presenti nel foro nell'impegno comune e costante di contribuire a favorire e promuovere e tutolare l'attività dell'avvocatura rinsaldandone i vincoli di solidarietà a colleganza e anche a promuovere la formazione degli studi, le iniziative culturali e scientifiche volte al miglioramento delle conoscenze e delle problematiche connesse alla giustizia specie nel delicatissimo momento di riforme che stiamo attraversando. Grazie a tutti.